La San Michele è stata creata da diversi anni, nasce nel 1959, abbiamo l'idea del fondatore Don Mario Lupoli, insomma ebbe l'idea di fondare questa società nella Firenze dopo il guerra dove secondo lui mancava un polo aggregante per i giovani e quindi per educare i giovani a valori premangelici, amicizia, lealtà, solidarietà, individuò lo sport come strumento per seguire questo obiettivo, quindi nacque prima il calcio e fu essenzialmente solo calcio fino agli anni 70, nel 75 cominciò la pallavolo con il maschile che anche io ho praticato e poi dopo poco tempo insomma venne la pallavolo femminile. Noi abbiamo circa 450 ragazzi fra i maschi del calcio e le femmine del volley che sono suddivisi nelle scuole di avviamento, 120 ragazzi nell'avviamento del calcio e un altro centinaio per la pallavolo. Come San Michele siamo molto contenti di questa collaborazione con Estra e di far parte di Estra Sport Club. Estra è sinonimo di energia e anche la pallavolo è energia perché le bimbe devono mettere tanta tanta energia emotiva e psicofisica per praticare questo sport.